La Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, un messaggio forte per alcuni, forse troppo. È meglio stare dentro, da dentro si escono a stabilire le regole se più partecipi. Non è una cosa molto intelligente fare questa cosa adesso, anche perché si può ripercuotere anche sugli altri paesi. Sarà un danno per noi come sarà, soprattutto per l'Inghilterra, perché da un punto di vista economico sarà un danno per tutti. E potrebbe essere anche l'inizio del disfacimento dell'Europa. Penso che non sia un bel segnale. Posso capire umanamente la reazione di chiusura di certi paesi, però penso che non sia un bel segnale. Questa Europa non mi piace. È un'Europa che vede solamente l'euro e basta. Secondo il governatore Zaia, il contagio referendario sarà al mood in tutti i paesi, Italia compresa. D'altra parte, dice, fino ad oggi, quando mai si è domandato direttamente agli europei che cosa ne pensavano di questa costruzione, è ora di farlo.